Buongiorno, mi chiamo Cesare Sirotti della società Vita Nova, sono il titolare. Vita Nova si occupa di riqualificazione energetica degli edifici, lavoriamo come consulenza sul risparmio energetico dell'involucro e dell'impiantistica. Perciò in involucro intendiamo tutto quello che è isolamento termico esterno-interno, piuttosto che isolamento del tetto, tutta la serramentistica partendo dal PVC, passando dal legno e arrivando all'alluminio. Per quanto riguarda l'impiantistica siamo specializzati in geotermia e fotovoltaico, geotermia in maniera ad espansione diretta, in orizzontale, sicuramente non per tutti ma il sistema più efficiente e sostenibile dal punto di vista economico. Siamo qui ad AIS, alla settimana della bioarchitettura domotica, sicuramente è un evento a livello locale di Emilia Romagna, uno spunto molto importante per promuovere le nostre tecnologie, oggi più che mai all'ordine del giorno, anche perché il governo ha prorogato, prorogherà con la legge di stabilità, il 65% anche per il nuovo anno, il 65-50% dell'eco bonus. Tutte le nostre tecnologie appunto sono, tra virgolette, diciamo scontate, come diciamo noi, dell'eco bonus, proprio perché devono aiutare privati, piuttosto che imprese, a pensare la riqualificazione come necessaria, necessaria proprio per cercare di avere comfort ambientale, risparmio energetico e benefici dal punto di vista anche economici e contributivi. Grazie.